Le voglio chiedere una cosa che ho già chiesto ad altri. Se c'è un candidato, oltre a quelle scontate, che lei può indicare come emblema della battaglia che sta conducendo il suo partito in questa campagna elettorale, di fronte agli elettori in questa tornata del 25 settembre. Un candidato emblema. Ma guardi, noi abbiamo Luisa Torsi, che è candidata a Bari, nel collegio uninominale di Bari. È la vicepresidente del Consiglio Scientifico del CNR. È la più grande scienziata chimica italiana. Ha vinto grandi premi. Il corrispondente di un premio Nobel è la persona che sarebbe nel governo nostro un ministro dell'università di ricerca scientifica di fama mondiale che aiuterebbe quel campo a essere ancora più avanzato di quanto potrebbe essere. Per me è stato molto importante che una come lei abbia deciso di accettare la candidatura. Ne approfitto per dire a tutti coloro che ci guardano e che stanno nel collegio di Bari che votando... Beh, si può fare campagna, non è ancora disegnante. Sì, però... Di votarla perché sarebbe fantastico per la Puglia, fantastico per Bari e fantastico per l'Italia. Per il PD anche. Dov'è? Domenica sera a Nazareno.